Il 2-0, rimediato domenica a Flaibano nella ottava di andata del campionato di eccellenza, è costato caro a Massimiliano Giatti, che non è più l'allenatore del Charlins Muzzane. La squadra, che nell'ultime cinque giornate ha incassato quattro sconfitte, si trova nelle retrovie della classifica del campionato di eccellenza, in una posizione non consona alle ambizioni del patron Vincenzo Zanutta. Il livello dei nomi arrivati in estate a Carlino a rinforzare la rosa e la situazione precaria dopo due mesi di partite hanno indotto la società della Charlins Muzzane a ricorrere all'esonero del mister. Sui social network e tra gli addetti ai lavori è già partito il tam-tam per i possibili sostituti di Giatti. I nomi sono quelli di Fabio Rossitto, Pino Vittore, Fabio Franti e Agostino Flavorea, anche se potrebbe inserirsi nella corsa alla panchina del Charlins Muzzane anche Nerino Barel. E proprio il Charlins Muzzane sarà protagonista della partita in diretta a TV su Udinese TV domenica alle 14.30.